Buongiorno Presidente, buongiorno, tutto bene, tutto a posto, oggi in programma altri incontri istituzionali. Sono incontri che valgono forse più delle cifre che tutti chiedono la sua esposizione a livello mediatico con le istituzioni. È fondamentale, noi dobbiamo stringerci con le istituzioni locali perché dobbiamo far crescere Palermo, dobbiamo far crescere la Sicilia, è solo facendolo insieme che ci riusciamo. Va bene Presidente, buona giornata. Grazie altrettanto. Grazie.